l'apogliere c'è per lo scu... il proiettivo di scondigli, davanti no, non sfreccarmi che cazzo ti affermi? DANG oh non si scarica? che cosa? mica sto sparando stai sparando io lo vedi? ehi, lo vedo anch'io ma che cosa sparare? eh no, come a me questo è un palla o me perchè poi non si scaricava anche l'arma no, no e cosa fai?